Caltanissette, intervento preventivo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale su Ponte San Michele, a poche decine di metri dalla chiesa omonima del Santo Patrono della città. È stato necessario chiudere il traffico da via Fraggiaratana verso via Catania e da via Salemi verso Piazza della Repubblica per consentire la verifica dello stato del ponte, che si trova in uno dei punti di snodo del traffico veicolare cittadino. A destare particolare attenzione uno dei giunti del ponte. Già da poco prima delle 18 i mezzi articolati degli uomini dei Vigili del Fuoco e gli uomini stessi hanno raggiunto il ponte per intervenire e svolgere le opportune verifiche del caso.